Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io mi chiamo David e qui parlo di libri della letteratura italiana, tedesca, inglese, francese o yiddish che ho letto in lingua e che vorrei condividere anche con i lettori di altre lingue. Oggi faccio il tech compri troppo libri. Non so chi è creato questo tech ma io sono stato taggato da Martina del canale Ima and the Books. Grazie Martina per avermi taggato e passiamo subito alle 13 domande di questo tech. Numero uno, da dove compri i tuoi libri? La maggior parte dei miei libri compro online su piattaforme di libri usati perché leggo principalmente classici e anche libri che sono fuori catalogo da molto tempo e quindi piattaforme come iBooks, iLibris, iLibraccio sono fondamentali per me. Compro anche molti libri in negozi specializzati sulla vendita di libri usati o libri antichi e c'è soltanto una piccola frazione dei miei acquisti che faccio su Amazon o librerie. Domanda numero due, effettuate mai preordini e in caso affermativo lo fate in negozio o online? Io non leggo molte nuove uscite, quindi non sono un fan di nessun serie, quindi non ho bisogno di effettuare preordini. Numero tre, quanti libri compri in media al mese? Cerco di acquistare solo un numero di libri pari a quelli che leggo, in modo che il numero di libri non letti nella mia biblioteca non vada fuori controllo. Quindi compro in media tra cinque e dieci libri al mese. Domanda numero quattro, hai utilizzato la tua biblioteca locale? Sì, l'ho utilizzata, ma soltanto da bambino o da adolescente. Da adulto ho sempre voluto possedere i libri che leggo e per questo motivo da quasi trent'anni non uso più la biblioteca. Tranne ovviamente per motivi di studio e di lavoro, ho usato la biblioteca universitaria per i libri e per le pubblicazioni accademiche, ma questa è una domanda completamente diversa. Domanda numero cinque, devo saltare le domande cinque e sei perché non uso la biblioteca. Passiamo alla domanda numero sette, cosa ne pensi dei negozi di beneficenza o libri di seconda mano? Sono ottimi fonti per trovare libri usati a un bel prezzo, quindi mi piacciono e li uso regolarmente. Domanda numero otto, mantieni la pila delle tue letture e quella del TBR insieme o sullo stesso scaffale oppure no? Non ho una pila fisica di libri non letti, mantengo tutti i libri insieme negli scavali. I miei libri sono ordinati per altre categorie, ad esempio per lingua, per autore, per casa editrice, per colana o in alcuni casi anche per dimensione, per sfruttare al meglio lo spazio limitato dei miei scaffali. Devo mettere i libri sullo scaffali in due file, uno dietro l'altro e questo non funziona in qualsiasi combinazione. È un po' come il gioco del computer Tetris, diventa sempre più complicato e difficile ogni anno. Ma torniamo alla domanda, c'è una piccola eccezione, a volte metto i prossimi due o tre libri che voglio leggere in una pila vicino alla mia poltrona o sul comodino. Questo aumenta anche la gioia d'attesa un po'. Allora, passiamo alla domanda numero 9. Pensi di leggere tutti i libri che possiedi? Dipende. Per me ci sono almeno tre categorie di libri. Quando compro un singolo titolo di un autore voglio assolutamente leggerlo. Ma a volte trovo un autore o un'autrice che mi piace molto e se posso acquistare un'edizione completa di tutte le sue opere lo faccio. Spesso accade che tale edizione completa contenga alcune opere che mi interessano meno e quindi vorrei leggere la maggior parte di queste edizioni complete, ma non tutti i volumi. La terza categoria sono i saggi. Spesso mi capita di essere interessata solo ad alcuni capitoli di un saggio e allora leggo selezionamente soltanto quelli e potrei sfogliare il resto per vedere se c'è qualcosa che suscita il mio interesse, altrimenti il resto rimane non letto. Domanda numero dieci. Numero undici. Hai mai donato libri? Sì, come già risposto a questo con la domanda precedente. Numero dodici. Sei mai stato soggetto di un divieto di acquisto di libri? Sì, ma questo è stato un divieto autoimposto. Io e mia moglie ci siamo sposati molto giovani quando eravamo ancora all'inizio dei nostri studi e avevamo pochi soldi, ma volevamo davvero fare una lunga vacanza di sei o sette settimane negli Stati Uniti in Kemper. Quindi abbiamo dovuto risparmiare e economizzare per oltre un anno e durante questo periodo abbiamo destinato solo una piccola somma di denaro per hobby come la lettura. All'epoca credo che si trattasse di 50 marchi al mese, ovvero circa 25 euro per mese. Ma ne valeva la pena, la vacanza negli Stati Uniti è stata fantastica e quasi 30 anni dopo siamo ancora felicemente sposati. Quindi, andiamo alla domanda numero 13. Pensi di acquistare troppi libri? Penso di no. Non ho ancora trovato l'equilibrio perfetto tra acquisti e letture. Forse è una cosa irraggiungibile per un lettore avido, ma questo non mi stressa per niente. Sicuramente continuo a comprare un po' più libri di quanti ne leggo, ma non in un modo eccessivo. Allora, siamo arrivati alla fine di questo tag. Vorrei taggare Chiara Martini e Marco Cantoni. Taggo Chiara perché seguo il suo canale da anni ed è un'importante fonte di ispirazione per me. E taggo Marco perché ho scoperto il suo canale solo pochi giorni fa, quasi due giorni fa. Marco ha realizzato un video molto interessante sulla morta di Booktube. Mi piacerebbe sapere di più su di lui. Grazie per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se fosse così lasciatemi un like o ancora meglio un commento qui sotto. Abbiate cura di voi. Alla prossima. Ciao. Ciao.